Ha cercato di difendere l'amico che stava litigando, ma ha finito per beccarsi una coltellata in pieno viso. Una lite finita a colpi di arma bianca, quella che si è scatenata all'esterno di una comunità per minori stranieri non accompagnati di Aragona. Ha rimanere ferito un giovane tunisino di 17 anni, che è intervenuto quando ha visto un amico, anche lui ospite della comunità, litigare con un altro ragazzo, originario sempre della Tunisia. Solo che ad avere la peggio è stato proprio colui che non aveva nulla a che vedere con ciò che stava accadendo. Immediatamente è stato chiaro che il ferito aveva bisogno di cure mediche e quindi il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una volta arrivato sul posto è stato curato e tenuto sotto osservazione. L'episodio non è naturalmente passato inosservata ad uno dei metronotte che svolgono il servizio di sorveglianza al San Giovanni di Dio, il quale vista la gravità della situazione ha subito allertato il 112 e sul posto sono arrivati rapidamente i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento. Subito gli investigatori hanno ascoltato il ragazzo che ha raccontato cosa era successo, fornendo i primi spunti ai poliziotti, i quali stanno adesso lavorando per rintracciare l'aggressore.